Dobbiamo promuovere anche forme di intervento pubblico per attraire capitali, investimenti privati anche nel settore. La cultura vuol dire tutto, vuol dire perché un tempo, come sapete, me lo insegnate, c'era il concetto di cultura nella dimensione esclusivamente soggettiva come competenze, capacità e attività intellettuale. Invece poi progressivamente, insomma una svolta che sin dal diciottesimo secolo alla metà del diciottesimo secolo, in senso oggettivo, cultura è il modo di essere, di manifestarsi di una società in tutte le sue componenti, capacità, abitudini, acquisite e trasmesse. E questo è il nostro primato, evidentemente, il primato che si irradia nel mondo e dobbiamo assolutamente conservare questo primato e sostenere con varie forme di interventi quei settori in particolare che sono in sofferenza, spettacolo, industria dell'audiovisivo. Il Presidente Rutelli ricordava quella, l'evento a cui ho partecipato e lì era, c'era quella ricerca, avete presentato quella ricerca in cui effettivamente avete dimostrato come, nonostante ovviamente le multinazionali che operano nel settore, però in questa industria noi possiamo recitare un ruolo importante, questo vale a tutte le attitudini, in tutte le manifestazioni. Il Governo prende l'impegno per assolutamente puntare e investire nel turismo, nel settore della cultura, del cinema, dello spettacolo, dell'editoria. Grazie a tutti.